Ci vediamo giovedì 25, giovedì 4 marzo dalle 18.30 alle 20 per parlare della nostra posizione nel mondo che vuol dire come siamo inseriti nell'insieme di tutto quello che c'è intorno a noi e lo faremo dal punto di vista della numerologia, lo faremo dal punto di vista del numero che ci lega di più alla collettività che è proprio l'anno di nascita e l'anno che stiamo vivendo soprattutto quindi il 2020-2021 che sono molto collegati uno con l'altro e che sono collegati con il nostro giorno e mese di nascita, insomma vedremo insieme come vengono presi in considerazione come vibrazione, come supporto, come aiuto a scoprire quello che è il nostro potenziale perché i numeri sono energia, i numeri sono vibrazione e ci legano a quello che succede nel mondo lo faremo insieme in un modo semplice, comprensibile a tutti, un avvicinamento a questa antica arte della numerologia pitagorica esoterica che vuol dire che cosa c'è dietro i numeri, semplicemente che cosa c'è oltre i numeri, che cosa ci insegnano perché i numeri sono veramente grandi insegnanti e supporti per farci capire quello che stiamo percorrendo, quello che stiamo trascorrendo e quindi visto che è un momento non facile, molto sfidante per tutti noi, andiamo a scoprire il numero collettivo nel quale siamo per capire qual è il nostro ruolo nel mondo. Grazie Grazie